Ciao amici di Foodspring siamo tornati, grandissima giornata, lancio mondiale il 7 febbraio per che cosa? Per le nuove barette di Foodspring, iper proteiche, iper buone, tra i diversi gusti Ci avete presente quelli snack, quelli candy bar all'americana con il mu, con quel dolce sofficissimo centrale? Non posso dire il nome, ok? Però sono quelli proprio che noi abbiamo mangiato da piccoli Quando volevamo veramente la, diciamo, la schifezzuola, ok? La schifezzuola Adesso abbiamo Protein Bar di Foodspring, oggi lancio, guardiamo la consistenza insieme Perché stiamo parlando di una cosa che veramente sfiora il non dietetico, il non, diciamo, la baretta non sana Però è molto sana, poi vi spieghiamo perché Però abbiamo una baretta proteica, guardate qua, proteica, ok? Super buono Apriamo, guardate che consistenza, ti ricorda qualche cosa che comincia con le S, con le M, con le... Tre diversi gusti, abbiamo caramello, cocco e cacahuete, come si direbbe in spagnolo Che è il nostro peanut, ok? Arrachidi, baretta di arrachidi Super proteici tutti e tre, ok? E super croccanti da una parte Ok, questo qua è coconut, crispy coconut, ok? Guardiamo, facciamo lo... lo unwrapping Guarda, crispy coconut, guardate qua Crispy coconut Tac, guardate che consistenza Un buono da morire È eccellente poi la nostra finestra, diciamo, iperbolica dopo l'allenamento Quando abbiamo bisogno di integrare sia i zuccheri che le proteine, ok? E nel terzo, la nostra... mm-mm-mm-mm-mm La nostra arrachidi, ok? Andiamo anche qui tre diversi gusti riti di proteine e vi devo dire una cosa ragazzi questa è nostra eccoci qua, arachidi riuscite a vedere questi arachidi qua dentro ok veramente una cosa di uno gustoso oltre ogni immaginazione l'unico rischio secondo me diventerà una sorta di dipendenza sulle protein bar nuove di Foodspring allora ogni barretta ha 65 grammi ok e devo dire una barretta bella sostanziosa uno ti sazia veramente tantissimo e ha la bellezza di 227 calorie per 65 grammi per 100 grammi arriviamo a 349 calorie per 100 grammi che sfiora anche meno di 100 grammi di riso e lo spieghiamo perché perché tante tante fibre ci sono 9 grammi di fibra in ogni barretta la fibra è una cosa che da sostanza ci aiuta a sentire sazi ma non ci dà calorie anzi ci aiuta a nutrire i nostri microbiota il nostro microbioma perché è un prebiotico e poi andiamo sulle nostre proteine ci sono 30 grammi di proteine per 100 grammi e 19,5 grammi di proteine per ogni barretta perché al caramello abbiamo 31 grammi di proteine per 100 grammi e 20 grammi per ogni barretta 19,6 per la nostra cocco 20,1 grammi di proteine per ogni barretta qui abbiamo 228 calorie, 228 calorie per baretta se amate diciamo gli arachidi, cocco, 227 calorie, sono abbastanza similare come calorie, i gusti sono strepitosi, ti danno questo appagamento per il cervello, oggi il lancio internazionale di Foodspring per queste nuove barette, che non è una baretta semplice di proteine, è di più, perché è come un dolce, è come quello, quello squiff e tuolo come dico io che compri dalla macchinetta quando sei al lavoro così, prendete queste Foodspring, portatele con voi, le barette sono 12 per pacco, ok, derivano 12 per pacco, il pacco è bello robusto, buono, potete anche lasciarle in frigorifero volendo, e così, portatele come voi, con voi quando non sapete che cosa mangiare, ma volete comunque mangiare bene, pieno di proteine, pieno di fibre, poco calorie, tantissimo gusto, c'è il dolce giusto, né troppo dolce né troppo poco dolce, tre diversi gusti, il cocco, l'arachidi o caramello, e tutti e tre ricchi, ricchi, ricchi di proteine, di fibre, ok, intorno a 20 grammi di proteine per ogni baretta, e lo sapete quando avete quella voglia di dolce in mezza giornata? Potete anche spezzare la metà, magari mezza pomeriggio, mangi mezza baretta, dopo cena mangiate un'altra mezza baretta, sapendo che comunque stai mangiando, bene, non ti prego, guarda, 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 guardate che cos'è questa, questa sì, è una baretta ragazzi, e non dimenticate che potete utilizzare il mio codice sconto, GILYT, 15% di sconto direttamente durante la vostra check out sul sito foodspring.it, così potete essere parte delle prime persone che proveranno queste barette e si innamorano non solo di foodspring, ma di queste barette proteiche super gustose. Baci dalla GILYT, vi aspetto alla prossima, diciamo, non solo allenamento, ma anche assaggiamento di foodspring per voi. Ciao a tutti!